la sorpresa, i singoli e l'organizzazione e Argentina peggio pallone aperto per Di Maria 1 contro 1 per Di Maria provatore in verticale poi Gouin e un più in più già lo primo pallone di rigore non c'è di Gouin 1 a 0 buono il pallone centrale per De Bruin si fa vedere De Bruin ha un tiro con il sinistro De Bruin in carriera segnato anche da oltre 35 metri con il sinistro De Bruin, Romero, Ligia in ritardo e Messi non trova la porta ha cercato un palo di Courtois pensando che andasse dall'altra parte Mertonghen cuore, colpo di testa in mezzo a 4 Gouin da solo tunnel di Gouin e la legge di rigore e la legge di rigore